Sì? Cosa desidera? Io abitavo qui. Si accomodi. È il meno che posso fare. È come se la ricordava? Più pulita. Beh, dia un'occhiata, faccia un giro. Intanto accendo il bollitore. Bracce d'inverno. I capelli tuoi. Dove il mio cuore brucia. Ecco il tè. Grazie. E un po' di musica? Già, mi dispiace moltissimo. Ma in questo periodo dell'anno qui fa veramente caldo. Sto bene. Si ha sempre la sensazione di stare per morire. Lo sa cosa dicono a proposito di Derry? Che chi muore in questo posto è come se non morisse in realtà. Ma com'è ritornare qui a Derry? Le va di dirmelo? Bello, ma strano. Strano? Oh, cielo. Avevo messo dei biscotti in forno prima che arrivasse. Mi aspetti qui? Non voglio disturbare, è meglio... No, 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 no. Insisto. Che belle queste foto, signora Kersh. La sua famiglia? Quando mio padre venne in questo paese, aveva in tasca solo 14 dollari. Che lavoro faceva, signora Kersh? Mio padre lavorava nel circo. Io sono sempre stata la bambina di papà. Lo era anche lei? Sei ancora la sua bambina, Beverly? Lo sei? La riunione del Club dei Perdenti è ufficialmente aperta. Ce la faremo se resteremo uniti. Salve! 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 Grazie a tutti